Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Roblox Questo è un altro gioco che... ma come? Comunque il primo gioco che faccio... No, è la prima volta che ho provato Roblox Perché su PC c'erò però mi lagga, non riesco a giocare bene con il PC Così mi va fluido almeno, riusciamo a fare qualcosa Oggi completeremo parkour Faremo un secondo episodio a like Se te like porterò il saldino Se durasse troppo A 6 like O altrimenti non ho finito che basta Perché forse è corto, non lo so Ok, facciamo questo bellissimo livello Ok, ok Ne mancano due, non posso sbagliare Ok E checkpoint Scusate ci faccio... ma ho qualche un po' di molligola eh Vabbè questo è troppo gizzi Fidata La lattina rovesciata tutto, molto molto bello Aiuto Ok Facciamo così, facciamo così, facciamo... Stavo cadendo E checkpoint Un alter check Vabbè dai easy eh Saltalo Se alter... scu... Vabbè per te che sono... Come? Oh raga ho detto easy, muoio eh Sono sicuro Come? Non sono morto Bene Lo sapevo Easy Però Ehm Senti no, sono un po' Che bello dai Però non è stato un po' tanto difficile Un po' Ma non è uno scudo allora qualcosa boh No, vuol dire che sono tipo appena... Ok, in generale Ok No Si può fare... No Stavo inciompando Vai Sì E com'è qua? E che? Bisogna avere una precisione Qua non ho nessun'idea Eh raga Sono andando pianissimo Vi giuro che questo è proprio... Ma non ci credo Non ci credo Che rabbia Dai Guardate poi come sono morto da scemo Ma questo è troppo easy Però Stai rotta Non mi intrecco eh Muori queste cose Un po' Non è Però Ma mori facciamo questo parkour Non moriamo Non assolutamente Moriamo Aiuto Ma come? Non andiamo No raga Sto video durerà tipo 10 mila anni Guarda Quanto è easy Soltaci una faccia Lo sento eh Vai Dai cosa chiedo No No Proprio Poi subito eh Quindi è proprio al contrario Non ci sono cose per citare Se non costino Robux Non si può avere tipo tre vite E con le tre vite E con le tre vite salti il livello Dai Posse lo saltare proprio Ma cosa? Ma cosa? Dai la zaccata con la mano Quando è morto Ma non è vero? Eh va bene l'ho vista Non l'ho toccato Aspettate raga Ci vediamo dopo Ok Ci siamo L'ho fatto E ho stopato il video E ci l'ho fatto Nel tentativo Non lo giuro Non è per dire Però veramente Poi ci l'ho fatto In un tentativo Però Vabbè Questo Che meno facile Sì Dai Molto molto easy Sì Non parto di ciò Io faccio solo questo E' quello Si può scuri? Sì è questo Allora ricordiamoci No Non me la sento che è questo Allora E' questo No raga Non è questo Abbiamo controllato male uno Ma Ma No raga Andiamo su Due avanti Perché mi sento che è questo Non è questo Benissimo Ma cosa? Allora sì Che era l'ultimo Però raga Non ce l'ha detto Secondo me è così Guardate No Usulbugs Usulbugs Il glitch No 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 Però E' anche difficile Che tu possa cadere Da qua Sicuramente non è quello Ce lo siamo tolti Però dobbiamo andare proprio davanti Ecco perché non ho funzionato Ok è questo Ok quindi Ricordiamoci Così 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 E' un troll Infatti Dove è questo Lo so qua Sicuramente è tutto avanti Poi perché Pensare Ma farà così Quindi No vabbè però Che troll Unico No E volevi Perché ho parlato Ma ci ha dato Il check point Lo stesso Allora sarebbe stata giusta Perché Allora Le contrarre Aspetta Mi sembra strano Ah no Perché il check point Probabilmente Non lo voglio Ok I zi Ok Noi siamo qua Cos'è sta roba Vai Vai così Sfiorato Morto male Della testa No 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 Però se era per saltare Il livello De Può aver saltato Anche questo No 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 Per il Dai No 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 Per il mio Soltato Questo Questo è uguale All'altro Lo abbiamo fatto Prima Grande Qua Ma lì si sale Ok Sì di qua Ok Ok Poi in prima persona Sapete tutti Che si può mettere No Ma cosa Non l'avevo Non l'avevo Toccato Però l'avevo schieratissimo Se vi vogliamo questo Buon assalto Buon assalto Ok Ci siamo di nuovo Comunque Sono arrivato Con la corda Che avete visto Prima Mi ho fatto Andare in alto E niente Mi ha tele trasportato Non bisogna Andarci sopra Ok Di nuovo L'ho fatto Il primo Il primo Fai perdere quanto vuoi Ma io Lo voglio farlo E se no Che gioco Adesso Che video È Questo Salto Le parti Easy No Quindi Easy Questo Sì Bisogna Rapplicarlo Oddio Una volta L'avevo fatto Tipo Una cosa Iguala A questa Che fastidio Farlo Questo Perfondo Ci ho messo Tre ore e mezza Due anni Voglio dire Però Spero Strano Che Ce la sto Facendo Qui davanti Buon Un video Qua Qua ero morto No E' normale E' normale E' qua Sono morto Tipo Almeno 800 volte So che non sembra Così difficile Però Ce l'ho fatta Il primo Il gemello Il gemello Dai Quello che Invece Di salire Questa rimane Così Sì Fino alla Ragà Il clan E' la fine L'ho visto No Ok Ok Cioè Secondo me La fine Il clan Dice No Checkpoint Aspetta Che bisogna saltarla Non penso Allora Che siamo Alla fine Questo Easy 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 Poi Easy Hard Stoppiamo Che questo Ok ci siamo L'abbiamo fatto Vediamo cosa c'è Mi sto prendendo In giro Fatti Ma hai fatta Questa parte Raga Io l'avevo Mi sono riuscita Di dirlo L'avevo già fatta Questa Io l'avevo già Fatta Tutto Però Mi faccio entrare Dentro La cosa Del clown No Allora Qui ho Quintato Ho Fatto Quella Ho Livato E Niente Non l'avevo Fatta Vediamo Vediamo un po' Ragazzi È troppo Lungo Sì Seconda Parte Facciamo Uncora Questo Una Un'altra Mi sa Che dovrò Fare la seconda Parte Se poi dura poco Faccio qui pure Un'altra Mappa Multilivello Vabbè Scusate È difficile Vramente Però Non è molto Easy Il grande Il salto Comunque Abbastanza Proprio Per poco Tipo Da qui È morto Ragazzi Io Vorrei fare Ancora Questo Fa Perché Mi piace Sto livello È fighissimo Guardate voi Ultimo livello Aia Ok Usa un trucco Questo è un trucco Lo what no no il video sto durando comunque troppo raga lo stop ciao invece no comunque ragazzi se vi è venuto iscrivetevi al canale perchè mi si è buggato come un'altra volta c'è da sempre ma perchè non lo so ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale comunque e continueremo questo bellissimo percorso e continueremo questo percorso che a me sembra molto bello comunque ragazzi vi dico tutto iscrivetevi al canale lasciate un bel like grazie per il video ciao